www.cdc.it Ciao a tutti di questo nuovo episodio di Angle Games Mancano 3 2 1 0 No 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 no, guarda se fappers Ok basta, capito Che fappata Ho scelto Pyro ma non pensavo fosse così cagoso Ho anche damage reduction I don't get it I don't get it Ok Ho la protezione dal fuoco Ok è figo Quindi se c'è da alarm ci posso buttare Teoricamente Molto teoricamente perché So che sono molto bugati Non questo server in particolare Ma gli Angle Games sono abbastanza bugati Poi non lo so l'ultima volta che ci ho giocato Fa più Ah ok sono invincibile Figo C'è qualche Ehm Ok Ora il problema è io come ci torno sopra Ma è un piccolo problema ma Che cacchio Ok mi fa muovere Boh vediamo se così mi fa muovere Vediamo se ho il Sì ho di vulnerabilità No Cioè che cos'è sta fappata Dovidi mi porta sempre allo stesso posto Dovidi mi porta sempre allo stesso posto Yes l'ho ammazzato Certo Come Che cacchio Oh muori E' morto spero E' morto spero Qui The King ha trovato la morte Beh chi se ne frega Il problema E' che non posso tornare più su Cioè deve prendere della terra qua O del pane è epico E ho anche un arco Oh Oh look at me È mio boss Grazie Ti stimo fra Lascia stare sul serio ti stimo Oh lascia stare è strategica sta roba Ho anche 5 bussole proprio Efficiency Sì dai qua dai qua Questo Bene bene Mi piace Altri nomignoli No io prendo la terra A parte il lag Ma quello penso sia normale Dice un tizio Andiamo perchè non mi dai Che bello fare 300 fps Nooo cos'è sta fappata Perchè mi laghi No Se provo a prendere un po' di carbone cosa mi dici Ah ma son crashato proprio da internet Che cos'è sta roba Mi era crashata la connessione Proprio stile yeah what the fuck E ancora Ma proprio mi salta la connessione proprio Perfetto vero Perfetto Ok dove dobbiamo andare Siamo in 28 E sto solo raccogliendo roba per tornare su Ho dove prendere un po' di ferro Mi faccio l'armatura completa si Ho sentito Oh No Che troia Sto fapper Che è durato 20 secondi sto video Mannaggia E' il bello che non ho manco tempo per mettere lì a registrare un altro video Che poi dovevo unirli Viene brutto E vabbè ragazzi E' stato bello finché è durato Ho fatto 3 kill mi pare Che sono comunque 3 coin da poter utilizzare in questi server Ne approfitto per dirvi L'ho già detto nell'episodio di minecraftita Però lo ripeto Domenica 23 In questi server Sphx Ci sarà un mega torneo di hunger games 100 persone Due partite da un'ora o qualcosa del genere Quindi Si Cercate su google sphx E vedete che fapperete di brutto Io vi saluto Questo era hunger games Ciao turuturututti